Siamo presso la sede dell'USB di Taranto, di Corso Umberto, in compagnia di Alessandro Damone, componente dell'esecutivo di fabbrica in rappresentanza appunto di USB. Parliamo ovviamente di ArcelorMittal. E allora Damone intanto ArcelorMittal dichiara un incremento della produzione, si riaprono anche alcuni reparti, vedi Acciaieria 1 e però paradossalmente ArcelorMittal proclama la Cassi Integrazione, cosiddetta Covid, per mi pare altre 12 settimane. Beh appare intanto contraddittorio perché parlare di aumento di produzione, quindi un miglioramento, e quindi parallelamente però avviene una restrizione appunto delle unità lavorative. Ma si sa il Covid oltre a portare danni per alcuni anche è un cavallo da cavalcare appunto per propri scopi e interessi personali nella fattispecie quelle di ArcelorMittal. Ecco parliamo un po' di questa situazione anche perché è una scelta dell'azienda che ha scavalcato i sindacati. Sì, innanzitutto bisogna evidenziare come è stato l'ennesimo incontro ormai da quando Arcelor si è insediato nello stabilimento di Tarto, un incontro nei contenuti unilaterale in quanto l'azienda viene al tavolo dichiarando soltanto quelli che sono i suoi voleri, chiaramente respingendo categoricamente tutte quelle che sono poi le proposte sindacali e quella che potrebbe essere una trattativa con il sindacato per avviare quelle che sono le più basilari regole di una sindacale, di riconfronto sindacale con l'azienda. Questo bisogna evidenziarlo. Come dicevi tu prima, l'azienda comunica 12 settimane di cassa integrazione Covid a valle del fatto anche che ci sono delle dichiarazioni su alcune ripartenze di alcuni impianti. Ma il nesso del discorso si ferma sul fatto che non vengono dati dei numeri rispetto alla ripartenza di questi impianti e quindi al rientro di alcuni lavoratori rispetto al fatto che poi c'è anche la cassa integrazione Covid. Ma per un semplice fatto, perché noi riteniamo che questa ripartenza così messa sul tavolo e tra virgolette sbandierata come una ripresa del mercato dell'acciaio E' abbastanza fittizia, diciamo. E' abbastanza fittizia perché dalla ripartenza di questi impianti che tenderebbero ad aumentare la produzione da 10.000 tonnellate a 14.000 tonnellate giornaliere di ghisa Noi pensiamo che da lì a 20-25 giorni suddetti impianti si fermerebbero di nuovo perché gli impianti che ripartirebbero andrebbero a sostituire impianti che necessitano di manutenzione che vanno comunque fermati perché sono veramente a rischio grosso di sicurezza. Ecco, volevo soffermarmi su questa realtà ormai, come dire, trita e ritrita ci ripetiamo ma purtroppo non cambia neanche una virgola proprio della faticenza strutturale della fabbrica uno stabilimento che letteralmente crolla a pezzi dal momento che la manutenzione non viene realizzata. Quali sono le maggiori criticità proprio, no? Considerando i vari comparti, no? Diciamo dell'impianto Ma diciamo che l'USB in questi due anni è stata protagonista di centinaia e centinaia di esposti di denunce rispetto al fatto che le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutti gli impianti dello stabilimento ormai sono completamente assenti diciamo che vengono effettuate così a pronto intervento se lì c'è, e te lo testimoni anche il fatto che i magazzini sono completamente vuoti allora se a pronto intervento, se c'è la necessità di intervenire, si interviene per mettere una pezza per tamponare l'emergenza per tamponare l'emergenza e portare avanti quella che ormai è sotto gli occhi di tutti è una produzione al minimo con impianti vetusti vecchi e obsoleti che, a detta di o anche di studi fatti, aumentano ancora di più l'inquinamento nella città di Taranto parliamo ora di questo accordo tra Stato in Vitalia ed Arcelor Mittal il quadro è abbastanza nebuloso, non c'è un piano industriale preciso, definito e quindi ovviamente le forze sindacali chiedono un confronto immediato si era parlato della data del 12 gennaio, ma non so se questa data verrà rispettata o se eventualmente ci sarà un ulteriore appuntamento ma innanzitutto sulla data del 12 gennaio, a quanto pare è stata confermata ma con l'assenza della parte del governo, dei ministri ci sarà soltanto un confronto con Arcelor in Vitalia nella sede di Confindustria a Roma è strano che non ci siano i ministri molto strano, ma approfitto di questo passaggio per ribadire come Arcelor ha vinto la sua battaglia ha messo alle corde in meno di due anni il governo mettendoli in condizioni di attingere tutte le condizioni più favorevoli possibili e immaginabili che a lui sono consone per continuare a stare su questo territorio ma finché a lui converrà quando a lui non converrà più ormai quando ha attinto tutto quello che gli serviva è chiaro che dopo aver raschiato il barile può andare via Sì, dopo aver spremuto gli impianti finché a lui conviene è chiaro che andrà via e purtroppo, vuole dirlo a questo punto poi è chiaro che sarà la lenta e purtroppo non sarà nelle condizioni migliori la dismissione di quello stabilimento lenta ma purtroppo non buona la dismissione di quello stabilimento Per concludere un ulteriore dobbiamo approfondire anche un po' considerare la situazione dei lavoratori ex ILVA in AS c'è tutta la questione della mancata integrazione salariale promessa ma di fatto non vettraccia Sì, anche qua pensiamo come USB che si sia scritta anche sulla questione sociale dei dipendenti ma sia di Arcelor che dell'amministrazione straordinaria la pagina più brutta della storia di quello stabilimento finché l'inquinamento è sempre esistito e quella fabbrica ha sempre prodotto nelle condizioni non ideali però perlomeno c'è il compromesso dell'occupazione e quello che poteva essere un minimo di ricchezza distribuita sul territorio adesso questo non c'è più in quanto la maggior parte dei lavoratori tra i 1700 che sono in AS e i 3500 di Arcelor che sono a casa in casa integrazione se prima la differenza tra ILVA in AS e Arcelor Militare è l'integrazione adesso questa integrazione non c'è più ma qua guarda c'è un passaggio da fare sul fatto che si pensava che si potesse dare un sollievo ai dipendenti in casa integrazione Covid di Arcelor Metal adeguando quella cassa integrazione alla cassa integrazione dell'ILVA in amministrazione straordinaria questo è stato fatto, ma è stato fatto al contrario hanno ritenuto opportuno adeguare quelli di ILVA in amministrazione straordinaria togliendo il 10% ai dipendenti in casa Covid di Arcelor Metal è una cosa abbastanza eticamente e moralmente squallida perché comunque in questo periodo, in questo momento con tutte le difficoltà che i lavoratori soprattutto quelli in AS che a questo punto non hanno neanche più una prospettiva si trovano a dover fare i conti con una decurtazione della loro possibilità economica per andare avanti e mantenere le proprie famiglie C'è da dire che gli enti locali non solo le rappresentanze sindacali in questa vicenda sono state completamente bypassate dal governo il governo procede per annunci e quindi poi, come dire, mette i lavoratori mette i sindacati mette gli enti locali con le spalle al muro una situazione che è stata rimarcata dal sindaco è stata rimarcata dal governatore della Puglia per Emiliano però di fatto, ripeto, abbiamo l'immagine triste di uno Stato che piega la testa dinanzi ad Arcelor Metal questo è un po' il succo della conclusione Beh sì, questa è una condizione che onestamente al netto di tutte le situazioni rispetto a quello che è stato il percorso e le condizioni messe in campo dall'ex Calenda con il governo precedente sicuramente non ci aspettavamo che questo governo ha detto all'inizio a Conte ci siamo trovati sia il governo diciamo Lega 5 Stelle sia ora il governo PD 5 Stelle hanno detto almeno il primo Conte diceva questa situazione io l'ho ereditata ora però scaduto il termine contrattuale si poteva ribaltarla non c'era più quel vincolo cosiddetto imposto da Calenda Sì sì certo mi viene di ricordare un episodio quando venne la prima volta Conte a Taranto io intervenni all'interno dello stabilimento nel Consiglio di Fabrica dicendo a Conte testuali parole noi siamo il popolo italiano noi siamo l'Italia chi è a prescindere che si chiami Arcelor Metal chiunque sia che si può permettere di venire sul nostro territorio e mettere in campo le condizioni a lui favorevoli calpestando quelle che sono la dignità l'etica, la moralità di un popolo dei lavoratori beh da quell'incontro diciamo Conte stesso non solo non è intervenuto a fronte del fatto che questa multinazionale continua a fare i propri interessi anzi la condizione è nettamente peggiorata perché è stato completamente raso al suolo l'accordo del 6 settembre 2018 che comunque al netto delle situazioni era uno dei migliori accordi firmati al netto delle condizioni messe in campo di calenda e che poi ha visto comunque procedere con l'accordo ha fatto adesso l'ultimo accordo firmato con le quote societarie al 50 e 50 che peggiorano ancora di più le condizioni mettendo in condizioni Mittal comunque di agire liberamente e come ha fatto purtroppo fino adesso non nelle migliori condizioni sì è chiaro poi sull'accordo di programma diciamo esposto anche dal comune della regione non ci vede che essere d'accordo sulla scorta del fatto che tutto quello che è stato menzionato e che ancora a noi non è dovuto sapere nell'accordo stipulato al governo con la zona Mittal dove pseudamente si programmano interventi green a destra e a manca noi non ci crediamo e quindi poi se verranno fatte se se verranno vengono messe in campo ben venga ma è chiaro che a fronte di questo bisogna mettere in campo un sistema risarcitorio per tutti i lavoratori che passano da un accordo di programma che comincia a programmare un nuovo futuro per la fabbrica per una nuova fabbrica e per il territorio passando da comunque una serie di proposte che noi abbiamo già depositato ai ministri e che speriamo vengano prese seriamente in considerazione per chiudere il cerchio e dare veramente un risarcimento a tutta la gente ai lavoratori di quello stabilimento Bene Damone che dire attenderemo e monitoreremo con estrema attenzione gli sviluppi a partire ovviamente da questo incontro programmato per il 12 gennaio però con un soggetto protagonista assente quale appunto il governo italiano con i suoi ministri alla prossima Grazie